ciao a tutti e bentornati in testina news oggi voglio presentarvi un prodotto che incarna l'eleganza e la maestria dell'artigianato italiano quando arte e tradizione si fondano nasce proprio il set zaino pocket l'accessorio ideale per gli appassionati di creazione all'uncinetto ma vediamolo nel dettaglio quindi questo meraviglioso set zaino pocket eccolo qui il nostro set zaino pocket che vi arriverà completo di parte frontale schienale ed eccole qui due pratiche tracolle allora analizziamo nel dettaglio ogni singola parte questa è la parte frontale come vedete già provvista di questa meravigliosa tasca quella proprio utilissima per inserire gli oggetti più pratici più piccoli a portata di mano pochissimi secondi che misura 22 cm per quanto riguarda la larghezza e invece 30 per quanto riguarda l'altezza poi c'è questa parte che è lo schienale dove ci sono attaccati questi pratici anelli che serviranno ovviamente per attaccare le tracolle questi pratici anelli rivettati quindi vedete davvero molto rinforzati e qui insomma ecco nella parte poi retro si vede davvero benissimo in modo tale che possa dare davvero un grande sostegno e non appesantirsi troppo quindi abbiamo detto ci sono questi attacchi rivettati e c'è anche questa pratica maniglie in modo tale che possa essere portato comodamente anche semplicemente con la mano e anche questo misura di larghezza 22 centimetri e di altezza 30 poi ci sono infine queste due pratiche tracolle che hanno una minima estensione di 52 centimetri e una massima di 90 centimetri perfettamente rifinite con i due moschettoni già inseriti in modo tale che possiate davvero attaccarle in maniera pratica al vostro zainetto eccolo qui i fori ovviamente che sono utilissimi per completarlo eccolo qui sono lungo tutto il perimetro dello zaino ed hanno un diametro di 0,4 centimetri ovviamente per ulteriori misure ricordate sempre di visionare la seconda foto posta sul sito nella quale sono riportate tutte le misure nel dettaglio di questo meraviglioso set zaino pocket ma ovviamente dopo tutti questi dettagli non possiamo che non curiosare tra le varie tonalità di colore che presenta e quindi vediamole insieme ogni singolo dettaglio di questo zaino è pensato proprio per offrire il meglio dalle copelle di qualità affine dettagli in metallo argento passando per uno schienale comodo e pratico e una tasca frontale con chiusura zip per custodire i vostri beni più preziosi quindi diciamo piccolo ma spazioso nonostante le sue dimensioni compatte il set zaino pocket sarà prontissimo per accompagnarvi ovunque voi andiate e se amate personalizzare beh sicuramente questo set è quello giusto per voi potrete infatti sicuramente arricchirlo con filati qualità e sublime o dargli un tocco di lurex con il tie sublime lux e completare il tutto tra i tantissimi colori disponibili delle nostre zip a metraggio unite e abbinate come ben sapete ai relativi cursori affinché questo zaino possa essere davvero vostro immergetevi quindi nell'arte dell'artigianalità italiana quindi made in italy e lasciate che lo zaino pocket diventi il vostro compagno quotidiano trasformando ogni giornata in un'avventura di stile noi ci vediamo al prossimo articolo ma prima mi raccomando iscrivetevi sul nostro canale youtube attivate la campanella e iscrivetevi su tutti i nostri social facebook pinterest instagram e tik tok e ovviamente al nostro solo unico ed ufficiale gruppo tessiland noi ci vediamo al prossimo articolo ciao ciao